In Sicilia altri 2.062 giovani potranno fare sport con il sostegno della regione siciliana. L'assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha infatti completato le procedure di erogazione dei voucher ammettendo a finanziamento le istanze precedentemente rimaste in sospeso per carenza di risorse economiche. I bonus già erogati erano stati 14.247. Con questa misura, afferma il presidente della regione Renato Schifani, abbiamo consentito a migliaia di giovani di avvicinarsi allo sport distogliendoli in molti casi da potenziali distrazioni pericolose. La pratica sportiva infatti permette di generare benessere fisico ma è anche un fattore in grado di creare socialità e comunità di educare i più giovani ai sani valori. Sono contento che ci sia stata la possibilità di soddisfare tutte le richieste pervenute. Un provvedimento fortemente voluto dal governo regionale, ha dichiarato l'assessore Elvira Amata, che grazie all'incremento della dotazione finanziaria prevista nella recente manovra di bilancio, ha consentito di poter allargare a tutti i richiedenti la fruizione dei voucher sportivi, favorendo così la massima partecipazione dei giovani allo sport. Questa è la conferma della costante e particolare attenzione del governo Schifani verso un segmento di strategica rilevanza per il suo ruolo fortemente inclusivo. Il voucher è destinato ai giovani siciliani di età compresa tra i 6 e i 16 anni che svolgono attività sportiva e fanno parte di nuclei familiari con i 6 non superiori a 12.000 euro annui. Potrà essere utilizzato esclusivamente per l'iscrizione e la partecipazione alle attività sportive delle associazioni e società dilettantistiche con sede legale in Sicilia, affiliate a federazioni sportive o enti riconosciuti dal CONI, oppure dal Comitato Italiano Paralimpico.